In balia delle mareggiate che hanno divorato la spiaggia fin quasi all'ambire diverse abitazioni, il litorale di Furnari sarà presto ripristinato e messo in sicurezza. La progettazione dell'intervento atteso da una decina d'anni sarà affidata all'ufficio contro il dissesto idrogeologico che fa capo al governatore siciliano Nello Musumeci. La gara scadrà il prossimo 22 dicembre. La struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha destinato alle opere di difesa della costa e a quelle di ripascimento 1 milione e 590 mila euro. L'intervento dovrebbe prevedere una doppia soluzione. Alla ricostruzione della spiaggia sabbiosa, che potrà così ritornare a svolgere il suo compito di protezione delle terze emerse e retrostanti, si accompagnerà alla realizzazione di barriere costituite da massi naturali in grado di smorzare la violenza del mare. I progettisti dovranno effettuare tutte le indagini necessarie a individuare il tipo di intervento più idoneo a proteggere le strutture che si affacciano sul mare e a rendere il litorale pienamente fruibile ai begnanti. Si dovrà fare i conti anche con il forte degrado ambientale che il fenomeno dell'erosione ha fin qui provocato, compromettendo anche l'aspetto paesaggistico. Ora è attesa la svolta.